Rubate uno dei furgoni coi soldi del Santa Blanca e nascondetelo nel garage di El Pulpo. Non appena lo saprà, Nidia Flores accuserà Pulpo del furto. Andiamo! Andiamo! Per farvi combattere fra di loro, vero? Bueno, voi Yankee siete qui, gamba di quanto sembriate, gracias. Andiamo! 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 Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Andiamo! 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 E c'è una miniera d'argento Il Santa Blanca si è preso le miniere Ha assunto la Barvecio Splata per coordinare gli scavi Per un minatore che differenza fa? Il suo capo è un pezzo di merda in ogni caso E lui è intrappolato un chilometro sottoterra? Cuoco Ho ricevuto Poca volontà, poca volontà Lei sta per esplodere L'ora con pochi bersagli Libero da questa parte In caccio Arrivare di uomo È andato Cerca di non ribattare quest'affare Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo. Vedo una casa enorme. Benvenuti nella casa della reginetta. Dovremmo andare a fare un saluto. Bohman dice che al momento è in Peru per affari, ma un'ispezione non fa mai male. 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 Pronto all'ingaggio. Un'ispezione non fa mai male. 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 Ci siete? Aprite il fuoco. Il fuoco 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 il fuoco.